Il rogo nella sua abitazione è stato fatale a Luciana Perrone, 53enne di Corato, morta nel suo appartamento che si trova al primo piano di una palazzina in via Lombroso ieri sera. Le fiamme sono divampate attorno alle venti e nel giro di pochi minuti la piccola abitazione in cui la vittima viveva con il suo cane di piccola taglia è stata avvolta dal rogo. Nelle prime fasi dell'intervento i vigili del fuoco entrati in casa passando da un terrazzino sono riusciti a salvare il cagnolino mentre per la 53enne non c'è stato nulla da fare e sono stati inutili anche i soccorsi immediati di un'equip sanitaria del 118. Il corpo della donna è stato trasportato a Bari nell'istituto di medicina legale, probabile che la procura di Trani ne disponga l'autopsia. L'appartamento dichiarato invece inagibile è stato sequestrato, il lavoro dei vigili del fuoco è terminato solo attorno alle 2.30 della scorsa notte. Saranno le indagini degli agenti della polizia di stato che si basano anche sui rilievi svolti dai colleghi della scientifica di Bari a ricostruire l'accaduto e a capire soprattutto se la 53enne è morta a causa dell'incendio o per altra causa prima che divampassero le fiamme sul posto oltre ai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.